Al tour si dice nel match Martina Barletta, vittoria per gli ospiti, tre punti preziosi nel forziere bianco-rosso, buono risultato per la compagine di Nevi-Orlandi nella seconda giornata di Coppa Italia Lega Pro. Da rivedere però alcuni aspetti tattici per la squadra bianco-rossa, una gara quella in trasferta che ha mostrato un Barletta dai due volti, impacciato nella prima frazione di gioco, convincente nella ripresa. Da prima da registrare il vantaggio locale di Bellieri che è fra i del numero uno bianco-rosso, poi al terzo minuto del secondo tempo il pareggio siglato da Cane e allo scadere il centro dal sapore di vittoria di Mantovani su assist di Cicerelli. Un Martina guerrito, quello visto in campo e guidato da Riccardo Bocchini, ritmi certamente vivaci su rettangolo verde e spettacolo sugli spalti. Da subito di fatti le due compagini entrate in campo con la voglia di fare bene, tanto agonismo e rapide ripartenze. Nella giornata di mercoledì il Barletta misurerà ancora le proprie capacità contro il Melfi e il Valerio in palio, il passaggio del turno Coppa Italia Lega Pro. Una formazione quella bianco-rossa che continua a sperimentare le proprie pedine in vista dell'imminente avvio di campionato, che al triplice fischio d'inizio lo vedrà scendere in campo contro il Pisa.